L'isola 2024, anche al debutto, regala le prime sorprese. Scoppia inaspettatamente la fronda contro la, VIP Matilde Brandi. La showgirl è accusata dai, Nip, che già 48 ore prima hanno occupato la spiaggia in Honduras all'insaputa dei famosi. E, arrogante e casinista, sottolineano quasi all'unisono il pescivendolo Peppe di Napoli, la contessa Alina Vereconi-Scortecci, la modella K di Guai, e il poeta Pietro Fanelli. La reazione della 55enne, che in Palapa scopre tutto, non si fa attendere. Matilde, che però non conoscono ancora personalmente, a pelle ai, Nip non piace. Nella clip che viene mostrata da Vladimir Luxuria, i quattro parlano male di lei. Matilde Brandi credo che sia una che non le manda a dire, precisa la Guai. Il suo carattere è litigioso e per questo rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri concorrenti, tuona la contessa Alina. Di Napoli affonda Matilde. Mi sta antipatica. La vuole sempre vinta e da me le persone così non mi piacciono. Per Fanelli l'ex stella del bagaglino non è neppure così popolare. I VIP sono altri, come ad esempio Michael Jackson, Beyoncé, Beethoven. Poi Tagliente afferma, lei è un arrogante e casinista. La Brandi, quando è al corrente di ogni esternazione, non dà in escandescenze, non si imbufalisce. Avranno modo di ricredersi. Si ricrederanno, chissà. O forse no, certo, i commenti non sono stati belli, dice. E, comunque in buona compagnia. I, NIP, hanno definito Arthur Dainese, un bamboccio arrogante, e Samuel Peron, che hanno mandato in nomination diretta, un, calcolatore e manipolatore. Niente male per un inizio sereno.